Anticipazioni dei Dreamer Venerdì 5 febbraio 2021 Tutti i piatti del ristorante sono molto costosi, perciò Uma decide di proporre cosa mangiare. Né Uma né Nihat sanno però come si mangiano questi piatti prelibati e per questo motivo sono molto nervosi. Uma inizia quindi a sottolineare le differenze tra le due famiglie e dice anche apertamente che la loro è volgarità. Tra le famiglie scoppia una lite furibonda e tutti lasciano il locale. Mekbe è fuori di sé mentre Jeanne si accorge che è stato tutto organizzato per allontanare le famiglie e si infuria con la mamma. Nel frattempo Leila è con Osman e quest'ultimo decide di lasciarla dicendo che si è accorto di non essere amato. Jeanne raggiunge Sanem sugli scogli per chiedere scusa a nome di sua madre per l'accaduto. Sanem deve però dire qualcosa di molto importante ai divinte. Sanem deve però dire qualcosa di più di più di più di più. Sanem deve però dire qualcosa di più di più di più.